che ha ottenuto il titolo di migliore atleta paralimpica del mondo. Sabrina Gandolfi. Mai partecipare, tu devi dare il massimo, non conta sopravvivere nella vita, conta vivere. Con i 2113 punti delle World Series, Monica Boggioni, 19 anni, diventa la migliore nuotatrice paralimpica del pianeta. Non so, forse c'è ancora tempo per dimostrarlo e spero di poterlo diventare nel tempo. Studia biotecnologie, sogna di aiutare la ricerca e si porta con sé una maturità classica che incide sulla sua forza e sulla sua splendida visione del mondo. Penso che alla fine la dialettica di Hegel si possa un po' rispecchiare in quello che poi è il motto del movimento paralimpico, in cui dice che dove non arriva il corpo arriva la mente e dove non arriva la mente arriva lo spirito. Nata con una displegia spastica che colpisce le gambe, detiene 5 record del mondo e un europeo nella sua categoria e si prepara per i mondiali messicani di dicembre. Non molla mai come i suoi genitori, che si fanno ogni giorno parecchi chilometri per permetterle di allenarsi perché Pavia, la sua città, non ha una corsia in vasca disponibile. Devi ringraziare che ti stai intorno, se no non ce la fai da sola. Fate sport perché vi permette di esprimere la parte migliore di voi stessi e se soprattutto chi ha una disabilità riesce a vedere il punto migliore della disabilità e quindi conviene. Il calcio serial, Roma ha battuto la Lazio 2-1 nel derby della Capitale, primo anticipo della tredicesima giornata di campionato.